Un impatto violentissimo quello che ha sconvolto nella serata di ieri tutto il biellese. Lo scontro è avvenuto tra un'auto ed un monopattino. Ad avere la peggio l'uomo che era la guida del mezzo a due ruote, Alberto Cabrio di 33 anni. Ragazzo molto conosciuto ad Orzano, attivo sui social ed era amministratore della pagina Facebook del suo paese. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, hanno rilevato una situazione drammatica. Tanto che l'uomo è stato immediatamente intubato sul posto, ma purtroppo a nulla sono valsi tutti i tentativi di rianimarlo. Alle ore 19 la triste notizia. L'uomo era deceduto. Il ragazzo stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico quando è stato urtato violentemente dall'auto. L'incidente è avvenuto quando erano da poco passate le 18.30, nel tratto provinciale che da Roppolo porta all'ingresso di Viverone, in una zona poco illuminata, qualche decina di metri prima del lampione che segnala l'incrocio. L'auto che ha travolto il monopattino, una Mercedes classe A, ha proseguito la sua corsa per pochi metri, prima che il guidatore sconvolto si rendesse conto di quanto successo. La dinamica adesso è al vaglio della polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi, coordinata dalla procura di Biella, mentre i carabinieri si sono occupati della viabilità. Alberto Cabrio era solito recarsi a Viverone per incontrare il suo gruppo di amici. Da qualche tempo aveva acquistato il monopattino elettrico ed era diventato il mezzo che utilizzava abitualmente.